Il Comune di Piaggini ha pubblicato l'avviso per la concessione di buoni spesa per l'acquisto di genere alimentari e beni di prima necessità in favore delle famiglie in stato di bisogno per l'emergenza Covid in atto ormai da tempo. Possono presentare domande ai cittadini e nuclei familiari residenti a Piaggini con un ISEE non superiore a 7.000 euro e un patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro. C'è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la domanda su apposito modello scaricabile dal sito del Comune da inviare poi via email o PEC. Il Comune fa sapere che verrà data priorità alle famiglie ai cui componenti non percepiscono altre forme di sussidi pubblici. I buoni spese erogati ammontano a 100 euro al mese per ogni componente del nucleo familiare rilevato nella dichiarazione ISEE. L'importo potrà essere incrementato fino ad ulteriori 50 euro se la famiglia è composta da una sola persona, se ci sono bambini da 0 a 3 anni o persone con gravi disabilità che comportino spese aggiuntive per farmaci e beni alimentari o anche in caso di presenza nel nucleo familiare di altre situazioni di disagio accertate dall'ufficio servizi sociali del piano di zona S7. In ogni caso l'importo massimo che si potrà concedere per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore a 500 euro. Un aiuto dunque alle famiglie di piagine colpite dalla crisi legata al Covid in considerazione dell'assegnazione in favore del Comune dell'importo di circa 10.000 euro oltre a 230 euro donati da privati per l'erogazione di buoni di solidarietà alimentare.